E' caccia al killer di Mario Piccolino, l'avvocato blogger di 71 anni di Formia, provincia di Latina, ucciso con un colpo di pistola nel suo studio. Gli investigatori scavano nell'attività di Piccolino, che dal suo blog freevillage.it aveva più volte denunciato illegalità e affari sporchi del sud pontino. Allora andiamo in diretta da Formia, c'è Matteo Parlato. Buongiorno da Formia e per la precisione buongiorno dal cortile della chiesa di Sant'Erasmo a Formia. Da poco finita la messa e fra poco vi anticipo che sentiremo il parroco di questa chiesa per sentire come la cittadinanza ha reagito a questo omicidio. Ma andiamo alla cronaca, intanto domani alle 10 a Cassino si terrà l'autopsia dell'avvocato ucciso venerdì scorso, intorno alle 17.30 con un colpo di pistola in fronte. Per quanto riguarda la caccia all'uomo, l'uomo è stato visto e questo è un elemento molto importante. Gli investigatori che comunque lavorano a 360 gradi in questo momento stanno controllando le telecamere a circuito chiuso sia quelle che si trovavano nelle vicinanze dello studio dell'avvocato ma anche quelle della stazione ferroviaria e negli altri nodi strategici qui della città di Formia. Come hai giustamente anticipato tu, si sta controllando tutto il materiale che è dentro il computer dell'avvocato e blogger e anche tutto il materiale contenuto nella sua macchina fotografica per cercare di trovare un filo che possa portare al movente di questo omicidio. Noi abbiamo incontrato un rappresentante di Libera qui a Formia per cercare di capire però quanto è presente la camorra in questa città, in questo territorio? Ecco, sentiamo che cosa ci ha risposto, sentiamo il servizio. La risposta delle forze dell'ordine sicuramente è necessaria, è indispensabile ma non è esauriente. La cosa importante è una risposta che ci sia da parte della popolazione perché noi stiamo parlando di un territorio dove c'è un territorio sano, dove abbiamo avuto un'infiltrazione di clan camorristici ma soprattutto è stato riproposto un modello criminale, un modello culturale criminale al quale purtroppo ci stiamo adeguando. E' più pericoloso questo che non il fenomeno criminale in se stesso perché al fenomeno criminale si può dare tranquillamente una risposta militare. A quello culturale no, a quello culturale ci vogliono anni, soprattutto ci vogliono le giorni generazioni che devono impegnarsi.